Ed ecco che inizia il big match subito con questo primo tentativo da parte della formazione ospite big match tra la Camedeson e Little Service Pesaro per Taborta dall'altra parte Onorio e il pallone che arriva in rete la rete di Jefferson dopo un minuto e dodici secondi la sblocca così la formazione ospite Attenzione contropiede due contro uno e la grandissima risposta clamorosa intanto c'è un fallo di mano c'è un fallo di mano Marcellinio parte il tiro la parata Jefferson Jefferson ancora la possibilità dall'altra parte il tentativo ora è la golla la rete di Taborta e arriva lo 0 a 2 con Taborta Borrutto a piazzare alle spalle di Pietrangelo poi attenzione dall'altra parte il gol la rete da parte di De Oliveira Parte il tiro e questa volta la sfortuna inizia la ripresa cerca di velocizzare il gioco con Tiago Grippi questa volta con i piedi l'intervento di Miarelli parte in contropiede Salas Salas e Salas trova il 4 a 0 Partita quasi chiusa all'inizio intanto c'è la deviazione l'autogol di Igor stavamo dicendo appunto partita chiusa Tiago Grippi e questa volta Juan Fran riesce a trovare il gol per il giocatore della Kamedossona si tratta dell'undicesimo gol e poi arriva il raddoppio Vediamo Tiago Grippi incredibile davanti al portiere Juan Fran E intanto c'è il palo il palo di Onorio Intanto c'è questa triangolazione su questa chiusura attenzione il pallone e c'è ancora un calcio di rigore Parte tiro e la rete 22 gol stazionali Tiago Grippi Giapa Pardon Murillo E intanto il pallone va in rete E intanto c'è il gol E arriva anche la terza marcatura Tiago Grippi E vediamo se arriva il gol Niente da fare Little service Pesaro Che vince con il risultato di 7 a 3 Niente da fare Potre Grazie a tutti.